Niente, vi canto un'introduzione, buonasera a tu Daniro, 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 il grande unsung hero di questa sera, unsung, ma adesso lo sanghiamo, lo cantiamo, lo cantiamo sepolti da Megadrive e banane. Ciao, voi non sapete che travaglio e non intendo quello giornalista intendo proprio il travaglio tipo parto perché questa puntata animè sembrava non si potesse fare sembrava non s'avesse da fare perché ricordate che in un altro giorno non funzionava una mazza da Fabio e allora l'abbiamo rinviata e poi ieri sera Fabio mi dice domani è meglio se streami da solo perché ho altre cose da fare importanti e serie ed io dico non c'è problema io me la cavo da solo pensa che ho due Megadrive non uno ma due Megadrive e allora quando sono tornato a casa dall'ufficio che purtroppo è stato molto tardi ho scoperto con sommo orrore che purtroppo nessuno dei miei Megadrive dava segni di vita o perlomeno dava segni di video è morto il Megadrive numero uno è morto il Megadrive numero due ovvero non davano segnale video mortaci il loro Megadrive e così dico è colpa del trasformatore o forse è colpa del cavo video e allora per fortuna ne avevo tre li ho provati e non andavano mai vai 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 con il Megadrive vai 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 quanto disagio lo sai se il Megadrive non funziona io mi sento un po' mona e provo tre cavi due trasformatori e due televisori e provo col grabber e provo senza grabber e provo di tutto ma niente funziona e sento sempre più mona e con il Megadrive lontano non vai se non funziona segnale video e questo era il Megadrive giapponese che non funzionava e che infatti non funziona e mi faceva appunto sentire particolarmente mona e allora dico forse colpa della cartuccia che in effetti non la provavo dal 2012 per fortuna in ufficio io avevo un'altra cartuccia pirata gentile dono di Danilo della Frana Roberto Magistretti che però non l'aveva mai portato a casa era ancora in ufficio quindi l'ho presa e ho detto non basta io non mi fido di quei due Mega Drive e allora sono andato da Bortolotti ho preso un Mega Drive che non ci aveva lì e son tornato a casa ho ordinato una pizza l'ho mangiata e poi suoni rock'n'roll e infatti quello che vedete ora sai di Fabio Bortolotti è proprio il Mega Drive e questa cartucciona da Nilo della Frana molto grazie sai grazie mille sai perché comunque la mia cartuccia Mega Drive non funzionava aveva un problema di FAT all'SD dovevo formattarla forse FAT32 mentre era formatata in DFS e pazienza perché per fortuna adesso sembra andare tutto tutto Mega Drive quanti dolori per il Mega Drive e poi pensate che Fabio va via per tre settimane ma che anarchia che vivremo quassù nello Studio 3 avremo degli ospiti internazionali per esempio Roberto Magistretti verrà qui con me ma non per il Mega Drive no 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 sdraiato a terra il Mega Drive lo sai lontano tu non vai 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 con il Mega Drive Vai, 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 è mega la tega Sei mega figa, tu lo sai Quando giochi nuda al Sega Mega dry, mega dry, mega dry Mega dry Se tu me la dai, io ti do il mega dry Se non me la dai, mi terrò il mega dry Dammela, 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 dammela Se non me la dai, mi accontenterò di una Sega di un mega dry Vabbè, potremmo andare avanti a lungo così, ma non lo faremo Non lo faremo, ciao a tutti Direi che possiamo mettere via questa chitarra Comodamente, questa casa non è più una casa, ma è un accrocchio di scatole di mega drive E ci siamo, ci siamo Quindi ho spiegato un po', spero in maniera chiara e univoca, quello che è successo Questa sera, dicevo appunto, due mega drive, due mega drive che non funzionano Io pensavo veramente a questo punto che fosse un problema di cavo e di trasformatore Ma facendo la controprova con i cavi e con i trasformatori di Fabio Kainovit Bortolotti In realtà, no, 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 no Questi due mega drive non mi danno il segnale video di cui ho bisogno Allora a questo punto mi domando se per caso non fosse che io sono un mona E non so che il mega drive deve essere in qualche modo modificato Perché in effetti il mega drive di Fabio Kainovit Bortolotti è modificato E modificato per avere tre region diverse PAL, NTSC, JAP, NTSC, US Quindi ho a caso, schiacciando questi tasti che mi ha detto Ho settato, credo, sull'NTSC giapponese E in effetti funziona Potrebbe essere questa la causa oppure no Qualcuno magari potrebbe dirmi in chat Per esempio Danilo Zellafrana Che cosa vuol dire, che cosa significa Che cosa sta succedendo a questo ragazzo misterioso Con il suo mega drive nel curo Quindi mettiamo via mega drive Però prima, small comparison Guardate la bellezza del mega drive PAL Con questa piccola scritta 16 bit che non si vede Ma il tubo catodico riflette Doraemon anime dentro il mega drive Quanto è giusto tutto questo Perché non solo giochiamo in real hardware Ma per complicarci la vita stiamo anche giocando giustamente Su un vero tubo catodico che è qui Che voi non vedete Perché voi vedete invece internet Con tutto quello che internet comporta Rimettiamo la musica allegra di Doraemon Zabadabadabadabada Papapelo papapà Quindi mettiamolo per terra Spagliato a terra come i doors Questo invece è il mega drive, dicevo, giapponese Guardate quanto è più fico il mega drive giapponese Con questa scritta 16 bit bella, grossa e glossy Che ho infatti riprodotto in due minuti Mentre mangiavo la pizza in questo fantastico layout Che è esattamente quello del Famicom Ma con più grigio è scritto 16 bit 16 bit di potenza Ah... Non è qui Va bene ma perché siamo qui? Perché siamo qui? Perché una banana è stata messa per la scala qui con voi? Non lo so Perché sì Perché è la locura La locura dello studio 3 Che lo studio 3 Che l'ho visto sull'Action In effetti stiamo per fare una puntata sugli anime Perché alla fine siamo qua per gli anime Quindi con la prima cartuccia L'everdrive versione 1 La mega everdrive versione 1 Donata da Danilo Della Frana Salvifica Perché l'unica che mi funzionava in questo momento Avendo tipo 15 minuti per preparare tutto Sono riuscito a farlo Siamo qui E parleremo finalmente di anime Ora naturalmente esploderà la casa No Stiamo riuscendo Stiamo riuscendo a farlo Stiamo riuscendo finalmente a portare gli anime su Mega Drive Sulla Kenobi's World Production Saluti a tutti Nickel, Fragram, Tyron The Gamers from Osmos La Malta Il Forgets Tarion Sempre lui Quanti di Tarion che ci sono? Ma sempre lo stesso Sì Ross Wildstar The Snow Penguin C'è ancora la scritta Inizio alle 21.30 Grazie Grazie Perché restava qua Per tutta la sera Grazie a Snow Penguin L'anime degli immortacci tua No, non tua Tua Nel senso generico degli anime Quindi, quindi, quindi Anime Abbiamo un anime Abbiamo Un anime Io non sento tra l'altro il volume C'è un volume? Sì Apparentemente c'è un volume Voi sentite un volume della musica? È buona? È una roba? Quindi cominciamo Cominciamo così Anime e Anime e Mega Drive Un'accoppiata interessante Mega Drive Un po' sentita come una console Più World Più World Rispetto a Super Nintendo Senzamente perché Obnubiata in patria Del potere e strapotere Super Nintendo Ma in realtà Mega Drive in Occidente Ha avuto molto successo Non si accede più il tablet Vaffanculo Eccolo qua Si è acceso Benissimo Ho proprio qui Una bellissima lista Va detto Creata per me Appositamente Da Danilo Della Frana Non la vedete voi Ma non la vedono anche qui In effetti Perché non lo so Però questa lista ci aiuterà Ci aiuterà con piccole frasi Danilo Della Frana Ci ha dato delle indicazioni Su Su tutto Per esempio Combo completa Diceva Ah ma questo è Doraemon Yume do Robo No To Nin No Go Zanzun Bravissimo Come hai fatto a capirlo Sei proprio un biricone Oh che strano Che il pad del Mega Drive Così Così strano Va bene Non so cosa mi sta dicendo Doraemon Ma va bene Oh che bello Si comincia dove voglio Comincio qua Eccolo qua Il piccolo Piccolo Doraemon Sembra quasi C'è una vibe stranissima Da James Pond 2 Codename Robocode Doraemon Spara bolle Doraemon Carica il colpo E appare un 7 Giustamente 777 Vabbè Quindi tutti i punti Sono in notazione 7 decimale Perché il gioco Si chiama infatti Doraemon Doraemon Bellissimo 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 Disturber Priest Dice una cosa molto vera Io vedo vibe di Lupo Alberto Della idea E' vero E' verissimo E' verissimo E' verissimo Wow Questo è un bonus No Questo non è un bonus E muoio sul colpo Grazie Vabbè E' andata così Quindi voi che conoscete tutti Un bellissimo meme Di Doraemon Che strano Che sparo col tasto C E salto col tasto In tutto Al contrario Mi fa impazzire Vabbè Grazie Ma va in Doraemon Tu mare Ok Posso uccidere quella cosa Quella cosa Niente Posso solo bloccarle E passare Vabbè Strana Sta cosa Lo scrolling Mi dà un fastidio bestia Perché come vedete Quando salti Lo scrolling A un certo punto parte Prima ero riuscito Però a fare cose A ucciderlo Sì Vedete che Se io salto Lo scrolling Comincia a scrollare Mentre salto Questo è un errore Di game design Abbastanza fastidioso Secondo me Nel senso che Se pensate a Ghost and Goblin Cosa fa Ghost and Goblin Si fa saltare E una volta Che ha computato Un atterraggio Su una posizione Più alta Più bassa Solo allora Muove lo scroll Mentre invece Questo gioco Comincia a scrollare Già mentre sei in salto Quindi non sa Dove tu atterrerai Questa cosa Fa schifo Però ho trovato Un pacco di Dorayaki Mancato tutte le stelle Ma per fortuna Posso se riguardate Com'è bello Doraemon Quando cade Ma tanto È un po' tipo The New Zealand Story Doraemon cade Ma se scacci velocissimo Quasi quasi sembra saltare Ho perso anche la stelletta E muoio come un coglione Perché sbaglio tasto E sbaglio candeggio Scatticchia In più scatticchia Sì Non è lo scrolling Più bello Che avete mai visto Probabilmente Siamo almeno 60 fps E se sì Questo mi conforta Ancora sta merda Di roba di merda Io vado via E stavolta farò Una performance Eccezionale Mamma mia Rage quitting Rage quitting Non ancora Non capisco Sti tasti invertiti Cioè Io non ho niente Contro gli invertiti Come si dice Ma i tasti invertiti Sì Quello proprio Proprio no Anzi Dopo Achille e Laura Sanremo Devo dire Che mi sento Molto 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 Più gender fluid E uccidiamo Queste cose così Dio Quei fastidio Incredibile Sto scrolling Non posso uccidere Sto gioco subito Tipo Però guardate Cosa ho preso Ho preso la cosa Nel superstar Vabbè Lo lascio Questi Naturalmente Posso saltarci sopra No Rage quitting Basta Ho detto Rage quitting Non si può Rage quit Perché non posso Rage quit Questo tasto Potrebbe essere Un tasto di reset Non funziona Dario della frana Non funziona Il tasto di reset Giustamente Danilo dice Mi fa mire voglia Di giocare subito A Doraemon Meiku Dai Kausen Su PC Engine Con versione Di microinop preferiti Ho capito Così intendi Quella roba tipo Che non c'entra Niente con Doraemon Però non posso Perché non posso Resettare Con questo tasto Era bello Resettare Invece Resettare Così Boom Così Resetto il gioco Ma torna il gioco Devo proprio Spegnere Scusate Bah Va bene Io spengo E un tasto anti Ciao Degliuk71 Ah non ha mai funzionato Quel reset Grazie Danilo Di avermi detto Grazie Di avermi detto E buono Vabbè pazienza Che ci farei Che ci fa Che ci fa Anche me Anche me scatta Pensavo Solo il gioco Invece scatta Tutto Dei disturbi Ed allora Però io non posso Fare molto Sono attaccato Con la migliore Con la migliore Connessione Possibile Non sto neanche Registrando Per evitare Di creare Statter Di sorta Quindi 30 hertz Tutto giusto Allora Dai Play No Play Select game Bravo Con calma Vedete che Proprio la cartuccia Danilo Ips.ex Che non c'entra Niente Ma insomma Pazienza Abbiamo due pagine Di anime Poi abbiamo anche Anime inspired E anche Anime su sms Esatto C'è lo so Vido Vigini Lo so Ma non ho Altra alternativa Che fare così Perché reset Mi 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 Allora Dopo ste anime Che facciamo Niente Noi faremo anime Per sempre In realtà Sbollono In pentola Delle cose Molto importanti Per marzo Ma vi posso anticipare Che questa cosa Di marzo Comincerà In realtà Nell'arco Di febbraio Quindi Questo febbra Anime In realtà È una specie Di declivio Che ci porterà Dolcemente Verso Un mondo Migliore E dire di partire Subito con Dragomo L'appel Du destan Savà? Oui Savà Savà L'appel du destan Tu non Turn off The system Mamma mia Poi giocheremo Pierluca Anche Alla sbatto Inevitabilmente Vediamo intanto Se riusciamo A È una cartuccia Anteguerra Ricordiamo che È la prima cartuccia Penso che sia stata fatta Per Mega Drive In epoca recente Post retro Ed è una cartuccia Donata appunto Da Nilo Della Franna Di emergenza Perché la mia cartuccia È qua E purtroppo Avrei dovuto Riformattare La minchia E quindi Non è mai bello Riformattare La minchia Chi lo ha fatto Lo sa Una bella storia Su questo gioco Che potrei anche Cantare Ma non lo farò Sul fatto che A un certo punto Voi ditemi sempre Se l'audio è eccessivo Eccetera eccetera L'audio del gioco Ma a un certo punto Della mia vita Stavo con una ragazza Che abitava a Minervio In provincia di Bologna Castigatore ci giocavo A quel gioco E non sei l'unico Ci giocavo anch'io Era uno dei primi giochi Che funzionava decentemente Con gli emulatori Che avevo del Mega Drive Era a fine anni 90 Anche 97 probabilmente E c'era ospite Da questa mia fidanzata Di Minervio Carissima ragazza Che A cui voglio un bene dell'anima Tuttora E La sua famiglia Ospitava un bambino Di Chernobyl Di Chernobyl Che veniva ogni anno In Italia Per fare una specie Di colonia estiva Per cambiare aria Insomma Per cercare Di tipo Campare un po' meglio E E non parlava Una parola di italiano Ovviamente Neanche di inglese E giocavamo a Dragon Ball Z Questo qui del Mega Drive Emulato in giapponese Quindi era proprio Una communication breakdown Totale Ma grazie Al potere Del videogioco Grazie al potere Di Dragon Ball Z Si creò Un feeling Con questo bambino Che si chiamava Archum Detto Artem Perché si scriveva Artem Ma era Archum E lui era tipo Preso benissimo E praticamente Abbiamo cominciato A capire le mosse Tutte queste robe qua Ed eravamo praticamente Presi bene E ci siamo divertiti Un sacco Per un tipo Un mese A giocare solo a questo Io dicevo ogni tanto Ma no Giochiamo anche a Ghosts and Ghosts Guarda Ha programmato Yujinaka Quello che poi ha fatto Sonic the Edge Lui mi diceva Dragon Ball La svidagna Va bene Allora Chi sceglierò Allora Sceglierò Io sceglierò Le numero Di suite Che combatte Contro Cell No Perché lei è sicuramente Un po' pesce Non c'ha le mosse fighe Vai con Goku Dagli Intanto Stiamo giocando Le persone francese Quindi Interessante Come è fatto Sapete che Dragon Ball Arrivò in Francia Ha ha Tu n'es pas encore De ma merde Ha ha Va tu faire foutre Va bene L'Icum Dai La squadra Ginyu Ginyu Che come Gino Proprio Ecco Piate queste Ti piaciute Sotto 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 Maggio Vado Vediamo di trovare Le mosse Di capire come si fanno Le cose Così si vola Molto bene E anche su Mega Drive Guarda un po' Senza i layer Del Super Nintendo Comunque Io lo trovavo Molto croccantello Forse qualcosa Degli sprite Non so Ma c'era qualcosa Forse I pochi colori Davano un tono Più Addirittura Più Più animoso Rispetto a Mi sta rompendo il culo Vediamo Vediamo se riesce a capire come si fa Tipo una charge Così Così si mette in pausa E poi Appoint Kick Voltige Musique Oui Très bien On va alors On va à combattre Pour le balle De le dragon Dans le dragon ball Z De le Mega Drive La console Qui était très fameuse Mais aussi en France Et aussi en Japon Mais surtout en Amérique Parce qu'en Japon On avait Beaucoup 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 De Bukkake Et alors On ne pourrait pas Faire le footanari Il n'y a pas de footanari Sans le dragon ball Alors Fais un mosfig Fais un robe Non 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 Colpire la monas Colpire la monas Très bien Tu as colpire la monas Et je fais la move De la move Mais tu es à Paris Parce que tu es Un squadron de Ginevra De Genève De Ginevra La squadra de Ginevra La traduction Serapeuta bello traduire In italiano Ma no Calci Ma una kamehameha Dai cazzo Oh niente Fa la presa Una kamehameha Una Una Dai Poi resetto Poi una kamehameha Ma no la presa La kamehameha Dai Guarda Volo su Vado via Lontanissimo E preparo La mia kamehameha Forse devo caricare Tutto Dai carichiamo Ci si carica Io mi carico Anch'io Intanto mi carico Prima io Allora Scriviamo tutti Stai streamando A 50Hz No Non sto streamando A 50Hz Ragazzi Quando Sto streamando A 60fps Da OBS E Il Capture video Mi da Quando resetto 60Hz E pal M Vabbè Per forza Perché È il pal 60 Però Non sto streamando A 50Hz Cioè A voi Scatta Praticamente Ah raga Potete scrivere A 50Hz Fin che volete Non sto streamando A 50Hz Posso provare cose Ma per peggiorare Ulteriormente La situazione Se volete Così vi dice Il player Ma è impossibile Ragazzi È veramente impossibile Scusate 60fps 60fps Proprio Da Interessante Questa cosa Però Mi dice Dropped frames Tantissimi Allora Cerchiamo di capire In pratica Io sto streamando A 60fps Buono Il capturer È settato A 60fps O meglio A 60Hz Ma Ma Incidentalmente Effettivamente Finché io Muovo Il gioco Vedo che c'è Una quantità Di frame Droppati Pari All'11% Incidentalmente L'11% È molto vicino Al 10% Quindi Il 10% Di 60fps E effettivamente 6fps Quindi il gioco Sta andando Tra i 50 E i 53 Quando scatta A noi Dice 720p 50 Però È veramente Assurdo Ragazzi Perché Ce l'ho Proprio qua Da Da OBS Cioè Settaggio identico Untouched Dell'altra volta Quindi Io Orguisco Che ci sia Qualcosa Che non va Qui Qui nel cuore Del Mega Drive Che c'è questo tasto Di Razer Che permette di fare Luci di colore Diverso Che corrispondono A delle modalità Differenti Quindi Per quanto qualcuno Dica che frizza Perché è in tema Con il gioco Ora io Comincerò Una lunghissima Una lunghissima Trafila E voi Ve la puperete Tutta Visto che avete Giustamente Scassato l'amica Con 720p 50 Che strana Veramente strana Vediamo Provo a chiudere Un po' di robe Insomma Tanto lo sapete Che lo studio 3 È fatto per Così È fatto per amare Per amare Soprattutto per I mortanguerrieri Ma penso sia Un problema Di connessione A sto punto Vediamo Allora Aspetta Attenzione Lo resetto Lo resetto Lo tengo premuto Finché ottengo Un Adesso potrebbe Esplodere tutto Oppure Esplodere tutto Vediamo Che succede Lo scopriremo Vado Vediamo Vediamo se cambia Dinamicamente Lo screen Questa sarebbe Una cosa Pazzesca Capito Intanto il gioco È assolutamente Identico a prima A me Babich va Mi dicono Quindi in realtà Potrebbe essere Che non è Il frizz Non è un bug È una È una Esatto Così posso sparire Magicamente Grazie Mi vedo abbastanza Bene È Avant streaming Post videoludica Esattamente Intanto Non posso Come faccio A giocare bene Con questo pad De merda Come qualcuno Segnalava Il pad del megadrive È una roba allucinante Sembra di tenere in mano Uno stronzo È una roba Veramente insopportabile Cioè piuttosto Veramente Era meglio Il pad a forma di banana Adesso giocherò Con la banana Invece Che quel pad Del megadrive Il fotografer Non è più A cent quante Photogramme Per seconde Adesso però Dovete dirmi Adesso dovete dirmi Se lo vedete Ancora cinquanta Perché È inspiegabile Ok Qui Ah con la banana Mi sento già meglio Ora combatto contro Ginardo qua Vai Ginardo Un combat Se prepara Se potrebbe essere Un buon combattro Vuolevo cuciare E quindi In A cinquanta hertz Questo sarebbe il trucco ideale Però in realtà forse no Je suis très content Dice qualcuno Intanto sto continuando a giocare La cazzo di canna dragon Perché è umiliante Per voi quanto per me Ma il fatto che non riesco a fare Una mezzaluna Una roba Dai Shoryuken Ah L'ho fatta Attenzione L'ho fatta Forse ho trovato la mossa Diagonale Alt Bas Diagonale Faccio la presa Tosuki Valissimo La drog Se la merda Dici giustamente Qui Continuo a fargli la presa Perché è un coglione C'è qui Fare mezzaluna Vorrei capire Se questa mia limitazione Di mezzaluna È dovuta Al pessimo layout O dei tasti di mega drive O per caso Alla banana Direttamente Questo è un mistero Sì Uso un controllo A forma di banana Sì In realtà sto usando Una banana Sovrapposta al controllo Perché sono scemo Ma Adesso tolgo la banana Però Sapete La playstation 3 Dove avere un controllo A forma di banana E basta Sta presa Quando mai google Sì google Goku Ok Goku Tipo ok google Quando mai google Goku Ha avuto Mi si carica Intanto Ma mi carico anch'io Sai Allora Ogni 6-10 secondi Si blocca Tutto lo schermo Non solo Riquadro del Gravel Mi fa molto 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 Piacere Anche perché Ovviamente Mi sono distratto E mi ha tirato la palla in culo Anche perché Ovviamente A stream Iniziato Penso di poter fare Molto poco Allora Il pollice Il mega drive Il mega drive Setture In cui Sbagliato Il pollice De coprire I tre tasti Partendo da C Non spostare In continuazione Cioè Dove tenere così Il pad Ma stai scherzando Magari Beethoven Dai Su Non ha senso Comunque Il fatto che Che ogni Tot secondi Ci sia questo problema Rende lo streaming Veramente sgodevole Questo è Interessante Allora Finché va Proviamo così Dico Non va bene Ma finché va Ma va Non va Va bene Ho preso l'audio Senza interruzioni Mi fa molto piacere Continui Trois fois No Je ne veux pas Continui Oh Pour Sangoran Tu es Veramente Cadut Eh Fin C'est fini C'est peccato C'est fini Oh là là Ah Vabbè Se la vi Quindi 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 Ci sono dei Freeze Stile serate MSX Però è strano Perché Nella serate MSX Io vedevo effettivamente Il freeze Mentre stavolta È comunque diverso La voglia di toccare Questo settings E vedere cosa succede È fortissima Quasi quasi Tocco settings Lo faccio? Facciamo esplodere tutto Ma sì dai Settings Settings Video 60 Video Auto Discurre Ok Perfetto Niente Allora è proprio mistero Secondo me è un problema di Twitch Quella di Twitch Che non mi vuole Che non mi vuole Perché Perché Non lo so Non lo so Vale Allora Niente Abbiamo capito comunque la situazione La situazione Non sai Adesso guarda Adesso lo accendo Vediamo che cosa mi dice Luce viola Luce viola Vuol dire NTSC 443 NTSC 443 Inevitabilmente Che non funziona Un cazzo Quindi Twitch lo sa E vuole in qualche modo Incoraggiare La mia La mia La mia attitudine Punk Bourgeoisie In questo modo Allora anime Prendiamo il Sega Master System Prendiamo il Sega Master System Anzi Andiamo Facciamoci la sbatta Ma facciamocelo In japonese Facciamo in japonese Con il suo nome Completo Che sarà Okuto No Ken Desticazzi Buffi Si potrebbero anche Fare bellissimi confronti Ovviamente Do not turn off The system Gercal85 Adora I I contenuti Che portiamo Complimenti Figurati se non avessimo Un freeze Di 6 secondi Ogni 5 secondi Provate a premere F5 Provate a premere F5 Non lo so Have you tried Turning it off And on again Yes I just tried But all I obtained Doing this Is that now The game doesn't load At all Oh my god This is so cool I will just press Change color Change color Color blue Bella che insero Bella di padella Secondo che non funziona Un cazzo Vediamo Il blu A cosa corrisponde Questo è un moddato È un moddato Allora Anche questo Tutti uguali Questo è sempre NTSC443 Però prende subito Il segnale Quindi Più confortante Allora Select game Anzi Start game Perché ce l'abbiamo Play game Si vabbè Non va Okuto no Ken Non va la sbattola Però ditelo Perché probabilmente Il giapponese È un altro colore Ma quale Non si sa Non se sa È tutto da scoprire Signori È tutto da scoprire Questa sera Per Dio Lo scopriremo Quindi Questo non va Col blu Proviamo un altro colore E un altro gioco Per esempio Potremmo provare Sul Sega Master System A giocare Al primo Okuto no Ken No Che non c'è Perché Perché ho sbagliato Cartella SMS Allora Okuto no Ken Japan Per Sega Master System Vediamo cosa succede Con questo qui Comincia a vedere La vena Sulla fronte Che si ingrossa No Sono talmente stanco Che ho una serenità Quasi olimpica In questo momento Vai Ah Ah Bello Tutto tremebondo Ha cambiato Ha cambiato La risoluzione Per i cazzi su È bellissima Fantastico Però questo va Quindi è semplicemente Last battle Che non va Con questa Dovrebbe giocare Quello Master System Con il Mega Drive Ma non penso Si voglia così male Ecco qui qua L'ho fatto Allora Vai Vai Togli quel patacone Grazie Grazie tecnologia Ah Parallasse Parallasse Watatata Ah che bello Che bello Con subito Quel bel flicherino Che è proprio Del Che è proprio Quel flicherino Del Master System Che non ce la fa Con gli sprite Che è una delizia Chissà se ho messo Sukebandeka Cazzo mi sa di no Volevo tanto giocare A Sukebandeka Che in realtà È un gioco Che non è quello Che voi pensate Oddio Probabilmente non pensate niente Perché Sukebandeka Suke ma tu Un mare becca Anche come si c'entri Il destino Ecco va Vaffanculo 50 mila Bravo Bello Bello Rilassante Come è iniziato a scrollare Sono partiti Frame freeze Quindi veramente Come se la rete Non ce la facesse Ma è veramente Inspiegabile Ragazzi Proprio Veramente Inspiegabile Perché Insomma È la stessa rete L'altro giorno Cioè praticamente Sostanzialmente La rete È a merda Oggi Questo è il concetto Mi fa molto piacere Mi può consolare Che il Il rate Dei frame droppati È sempre Attorno all'11.4% Quindi è assolutamente Costante Nella sua merda Assoluta Mi sta uccidendo Tra l'altro Ma come fai a pensare I frame rate Mentre combatti Contro i mostri Cioè Non lo so Vieni 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 Come se fossimo I air kung fu Come se fossimo I air kung fu Fai finta di niente E sei morto Hai visto? Quindi Checkpoint Hai Vodafone Per caso No Fastweb Ma fino Cioè La settimana scorsa Non c'era nessun problema È oggi Che va così Oggi va a merda Però adesso Non vorrei dire Studio 3 Studio 3 Ma vuole ricordare Che una delle più importanti In assoluto Puntate Organizzate Da Kenobi's World Sud Actions Quella col team Di design a gran completo Di Mario Plus Rabbits Kingdom Battle Tutti quanti Felicemente A casa di Fabio Pronti per parlare Di gioco Giocandolo in stream Non è stata fatta In diretta Perché Effettivamente Non andava Internet In quel caso Si era Vodafone Quindi Hello everyone Hello the people From the world And Non ho capito Perché qui Devi picchiare Toki Ma a me Sembrano tutti uguali Sicuramente piccoli I personaggi Che riescono Anche a distinguere C'era Toki Non sono neanche accorto Ma sarà stato Toki cattivo Dai Dan Pronto tu mi devi dire Come si chiamava L'impostore Che faceva finta Di essere Toki Toki de merda Noto anche come Bello Comunque tutti i personaggi Niente Non c'è neanche uno Che tira i coltelli Come il confu master Un passo indietro Nella storia del game design Ma non è importanza E arriva ciccio pasticcio Questo era quello che mi pare Non moriva mai Per un problema Della cartuccia Vediamo se lui Sicuramente mi sta uccidendo Lui per il compenso Il suo punto debole era La panza Ma raga Io posso Non ho cambiato nulla Dalla volta scorsa Nulla nullissimo A livello di encoding Di big trade È rimasto tutto Assolutamente uguale Quindi Il problema è La vita Cioè inutile Certe volte è inutile Accagnarsi contro la tecnologia Perché dice No ma perché In realtà l'encoding Del bilinear filtering Della skyline Dello CCS Del retrotink Attaccato Alla porta Del cane Che morse il gatto Che mangiò il topo Che al mercato Mio padre comprò Ma in realtà Bisogna lasciarsi fluire Lasciarsi fluire Anche di fronte A un fraray di merda Cosa posso fare? Niente Sono impotente Di fronte a questo Soprattutto mentre lo stream È partito Perché Capito? Nio santo Fai qualcosa Cazzo Scusate Però Sono impotente Di fronte allo stream Ma il mio orgoglio Di giocatore Comun Ah calcio Calcio volante Ok calcio volante In faccia E ho trovato Il suo punto debole Il suo punto debole Non è la panza Che rimbanza Ma è il calcio in faccia Il calcio in faccia Che alla fine Lo ucciderà Se non fosse Che probabilmente È la stessa rom Del merda Dell'altra volta Vi ricordate che c'era Il problema Che non si riusciva Ad uccidere Ciccio Con la panza Ebbene Io credo Che siamo capitati Nella stessa cosa Perché se qualcosa Può andare storto Nello studio 3 Lo fa Lo fa Ciao Exa Va tutto bene Va tutto assolutamente bene Io ho settato Tutto a 60 fps Ma Twitch mi sta Traspettendo A 50 Creando dei bellissimi NANI Dei bellissimi Scattini Di merda No signal No future Sentite la vibrazione punk Connessa a tutto questo Buono comunque Comunque è buono E stabile Vita di merda Quindi stavamo dicendo Selezioniamo un gioco Con serietà Gli anime Gli anime Torniamo al Mega Drive La potenza Guardate la Bell Norti Che si abbona In un segno di Incoraggiamento Di incoraggiamento Sarà Sanremo Forse La banda è completamente Succhiata Da Sanremo Oggi Per festeggiare Questa serata Che è una buona idea Nei fatti Visto che il frame rate Fa cagare Non giochiamo giochi d'azione Giochiamo un bel gioco Di ruolo giapponese Di Nadia Il mistero Della Pietra Azzurra Vediamo se funziona La versione Pacciata Tradotta Che ho Pacciato E tradotto Proprio Oggi Do not turn off The system Un Nadia con Patch amatoriale Di traduzione In inglese Ora tutto Starà a vedere Se funziona Questa patch Perché non ho avuto Veramente il tempo Di provare Una mazza Ciao Vidi Slim Non vedo niente Colpo di scena Namcot Forsega Genesys Funziona Un abbraccio a Babich Che nonostante tutto Streamma in perterrito Sì In questa avventura Vai la sigla Fantastico La sigla Giappa E la sigla Giappa Silenzio Giappa 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 Grazie a tutti. 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 Quindi... Grazie a tutti. No, non parlare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip un gioco di ruolo, io credevo che fosse un gioco di ruolo, è un bicchiere di ravalbo who are you, what's so funny, boom, wow, work, fantastico, tipo le scazzottate di Buzz Spencer e Trensil a cui è stato tolto però tutto il divertimento, bene, comunque è nanco, wait, I need to keep them from moving ok, quindi ti costringe, oh Cristo, ti costringe, oh sto impazzendo, scusate, ti costringe ad ogni mossa a usare una cosa quindi in realtà è veramente una specie di visual novel più che altro, allora useremo la Birdline Gun, use, now I can use it le tre cose che avevo, ciao, questa cosa che il talk ti fa parlare solo con te stesso mi fa impazzire perché ovviamente devi avere qualcuno nel party, ok, view, quindi? sì, andiamo? ti va che andiamo? ah, perché c'era il leone in mezzo, perché c'era il leone in mezzo, vabbè pare una cazzo in interattiva, è tipo quick time event senza il quick, il time anche senza l'event, tutto sommato ah bene, sì, mi chiamo Gian, io volevo ancora, non ti ho chiesto l'aiuto, cosa? ma sei proprio una stronza l'idea che hanno ti fa una pippa, va bene e così, e così si conclude la nostra simpatica incursione dimmi il mio nome, è andata via, devo tornare alla nave, vabbè questi restano tutti là imburrati, diciamo così e arriva giustamente la K che dice che siete patetici, bello, bello, questo eterno archetipo dei Dorongo, di Mr. Ronio oh, bello, bello, bello il Mega Drive, cominciamo a mostrare i muscoli adesso so dove è la ragazza, sì, ma dov'è, non avete notato? la sua pelle è di un colore differente, è un animale con lei, io so chi bene, ehi, mio zio non è qua, dove è andato? Nella barca, vabbè siamo qua, una raminata colossale, infinita, purtroppo non ho il tempo nonostante questo probabilmente dovesse essere buono per... vabbè, non succede niente, non posso fare niente, ho trovato i fatti puoi entrare, vabbè, c'è una nota del zio, la prendi, sì prendi la nota, musiche notevoli, comunque mi piacciono ma... ma basta, ma basta, mi dispiace, posso osservare? No il signore è stato bello, è stato sfruttato lento, quindi era buono per... no, stai fermo, stai fermo, non fare niente fai conto che non abbia detto niente, Cristo, schiacciato, no, pal, pal, no stai fermo, oddio, oddio, ho fatto esplodere tutto ho sbagliato tasto, dovevo spegnere, pulito qual era il colore giusto, voi ve l'ho ricordato, io no mannaggia avevo trovato un minimo di stabilità adesso invece è tutto vomitellante si è stabilizzato, bene allora, la situazione, come avete capito, è taratissima questa sera non potendo, cioè possiamo anche giocare di giochi d'azione ma siamo un po' vincolati dalla bruttezza allora, visto che siamo vincolati alla bruttezza direi di giocare finalmente al prototipo di Akira Akira, curiosamente, chi segue il mondo la scena contemporanea di retro gaming lo sa come non posso incolpare Fabio? certo che posso incolpare Fabio è tutta la roba di Fabio che con questa sua assurda idea di diventare un campione di Wonder Boy Monsterland mi ha tolto uno dei pochi giochi su cui ero assolutamente spadroneggiante e mi riduce sostanzialmente a un mero comprimario l'invidia, il dolore, mentre tutti su Facebook gli fanno i complimenti bravo, bravissimo, che partita bellissima e io sangue, lacrime, sudore, sputare per non riuscire mai a fare una bella partita in live è un dolore terribile ma mentre Fabio e via giocherò tantissimo a Wonder Boy Monsterland e voi mi sarete testimoni se questo stronzo mi farà ovviamente andare dello stream alla giusta velocità quindi torniamo a Akira, Prototype tanti anni fa una ditta in vero americana la Black qualcosa la Black Bean la Black Pearl la Blue Light lo vedremo adesso ha l'idea di fare un gioco di Akira per Mega Drive ma purtroppo questa cosa si rivela fallimentare nel senso che il gioco non riesce ad uscire il gioco non riesce ad uscire e resta un prototipo e viene scoperto nella sua forma più completa quando? beh, pochi mesi fa tipo sotto Natale quindi state vedendo una primizia una primizia un po' in marcia se vogliamo perché è un prototipo di tantissimo tempo fa Black Pearl grazie Luke McQueen Black Pearl fece questo gioco quindi gli occidentali che cercano di fare un gioco di Akira mi sembra un po' un azzardo cioè potrei fare un gioco di Doraemon se volete 1995 Black Pearl software a subsidiari di THQ quindi sapete siamo proprio siamo lì allora video vigini grazie come fai a saperlo Blue Giappone viola usa rosso PAL benissimo quindi quindi Blue Giappone siamo giusti anche se gioco in realtà poi è americano ma insomma chi se ne frega guardate qua sembra anche tutto abbastanza giusto insomma ho ridisegnato la roba del film non ci pensiamo va bene già qui con questo questo nero un po' strano sul bordo della Stroke andiamo livello 1 Motorcycle Rambler Rumble più che prototipo è protozoico oh ed ecco è un prototipo quindi non aspettatevi niente di completo se vedete che scatta pensate potrebbe essere sia che scatta lo stream perché stasera va così sia che sia che ah sia che il gioco fa cagare scatta in effetti il gioco sta facendo cagare tipo Super and Gone a cui è stato tolto Super and Gone questo è il risultato con quell'incredibile sfondo di megalopoli madonna che schifezza immonda veramente non c'è nessuna sensazione di niente c'è un cartello Neo Tokyo però almeno potete vedere che posso tirare i pugni come in Road Rash però purtroppo non c'è nessuno a cui tirarli ma ricordiamolo che è un prototipo prototipo che cambia poi di livello in livello come penso che ha detto qualcuno in chat cambia gameplay quindi né carne né pesce la mia angoscia non decresce non succede niente io sto accelerando spero amiche ed amici di Icon Business Productions benvenuti a un'emozionante puntata a base di anime su Sega Mega Drive Sega Mega Drive Sailor Moon Pretty Soldier Sailor Moon Naoko Takeuchi Kodansha TV Asahi Toy Animation tutti insieme per un'eccellente traduzione amatoriale realizzata nel 2013 da un team di appassionati di Sailor Moon che hanno deciso di tradurre un gioco originariamente pensato solo per l'inglese per il giapponese in inglese bene quindi vediamo un po' che cosa vuol dire fare su Mega Drive questo ineffabile Mega Drive che sarà sicuramente il protagonista di una puntata bellissima per il mondo degli anime abbiamo visto il Famicom abbiamo visto l'eccezionale resa di giochi abominevoli sul Famicom Dick System e ora guarderemo come si comporta il Sega Mega Drive con il cazzo funziona funziona veramente veramente cioè va a 60 è incredibile ragazzi ciao sono Babby ci avete mai trovato una situazione come questa in cui per un'ora avete streamato a 50 fps mentre stavate streamando a 60 fps per la paura di rovinare tutto e quando invece voi avete rovinato tutto premendo stop e ripremendo start di colpo il frame rate si è messo a posto per caso ecco è quello che è successo un'altra puntata che non andrà mai su YouTube sembra un'altra serata signori certo certo perché in realtà sono indifferita su me stesso oh vediamo un po' com'è questo Sailor Moon mmm no 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 mi sento sta tutto perché ricordiamolo che queste ragazze sono un pochino underage quindi dobbiamo solo metterci in noi tutto giusto il corvo e Sailor Mars ma tutta come Sailor Moon ah no ok Geoban Shopping District però in realtà questo è il gioco da sala convertito su Mega Drive quindi un po' più bello Dan cosa mi dici c'è un po' più roba ci sono i dialoghetti che forse in sala non ci sono questa è la mossa da non fare ah che bello adesso possiamo giocare a quello che vogliamo funziona tutto perché dunque dovremmo giocare a Sailor Moon un mistero un mistero un mistero in maniera assolutamente platonica e non fraintendentimi anche perché non voglio certo sembrare un dirty old man resistente sta camminare telefonica sono pur sempre Sailor Mars cioè non è che adesso spacco tutto mangio panini faccio prese tiro calci nei coglioni agli orribili mostri di Sailor Moon il caratter design dei mostri di Sailor Moon è una roba brutta ma in realtà c'è una ragione che alla fine è quella riallacciarsi a quella che è la poetica e l'estetica dei Sentai dei vari Ultraman e anche di Tokusatsu in parte ma comunque cercare di mettere in una serie quelli che era i stilemi stai tipo tipo appunto Super Sentai e poi i Power Ranger ma tutto parte molti 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 anni prima in Giappone prima che ci venissero donati i Power Ranger scusa che in realtà è folle ma in Italia i Power Ranger sono arrivati praticamente insieme a Sailor Moon più o meno eravamo lì e le similitudini tra le due serie sono abbastanza evidentemente radicate guardate che bello picchiare dei manichini che non sono veramente manichini ma sono dei mostri tutta roba di Gigi Saban certo si torna sempre a Saban questo personaggio che potrebbe addirittura essere in qualche modo legato alla storia della sigla di Lamu sapete ormai è da più di dieci giorni che il mondo ha questa nuova pista per scoprire l'autore misterioso della sigla italiana di Lamu è venuto fuori che questo Noam cantante israeliano naturalizzato francese naturalizzato americano potrebbe infatti bello questa bella faccia da chiudere sentai merda mostro di gomma di merda ciao ciao posso dire che è molto più figo dell'arcade non mi ricordavo queste figate dell'arcade adesso potrebbe dirmi qualcosa il buon danno se sono che fosse scappata no è tornato non ricordo come si fanno le mosse speciali su mega drive se tiene premuto il pulsante di attacco fa cose stavo facendo cose si fa cose tanto bene il tempo che faccio le cose lo romito bisogna usare con parsimonia questo e fare le cose mi piace molto questa variante dell'ascensore con visuale laterale molto molto non posso girarmi mentre faccio la mosse speciale pazienza tu devi andare troppo a fare mi piace questa variante laterale dell'ascensore tipico topos da picchiaduro perché mi permette costantemente di spaccare vetri perché costantemente io lancio la gente di lato e mi vado a buttare nel buco con urla belluine o beduine come capivo da piccolo allora stavo preparando l'attacco speciale non farmi così che pare sembra la parte sbagliata mi metto qua e allora è una vaffanculo piadino super calcio stack ma no oh finalmente agliata dice chiaramente agliata come fare la nostra speciale perché è tipo agliata non è molto forte la nostra speciale non fa un cazzo è un'interpretazione dell'arcade un po' come Hyperstone Heist però anche per me più giocabile in cui i danni sono troppo bassi si tira troppo per le lunghe specie contro i boss dice buon Danilo della frana che ricordiamo è l'autore di questa scaletta che stiamo giocando anche voi volete fare scalette perché non bisogna scrivete a Fabio che è Nobile Bortolotti che è notoriamente molto più fabile di me e vi risponderà in mantenente su vari canali agliata poi questo è basso certo qua potevano anche smettere questa scelta quanti piani c'ha 8000 sto palazzo basta basta per Dio basta se no reggiquitto guardate che reggiquitto non temete che io reggiquitti non avete più possibilità di fare niente se io reggiquitto così almeno potete provare a combattere come se io reggiquitto voi siete morti anche se la runar se è morta il vostro mondo finisce la vostra dimensione viene inghiottita da un buco nero di nulla è questo che volete è questo che volete per la vostra vita o volete esistere anche morendo ancora un po' nella finzione illudica perché questo voi siete siete dei mondi che io comando con l'interruttore il power del Mega Drive ed eccola qua ah si è arrivata Sailor Moon ma veramente ah no non sei Sailor Moon sei Sailor Mars brava come osi sbagliarmi per quella per that clots fantastico in the name of Mars I will I will justice justice uh ehi gritti da sotto pippone e qui la gente va per per sbrogliarsi Sailor Moon eh ma anche lui mi ha confuso per Sailor Moon che è sono scemi tutti vieni vieni Agliata Agliata fuori campo guardi Agliata fuori campo ah ma ancora una barra di energia pazienza Agliata Marzio ah comunque ci dicono che Bellotta l'ha giocato l'altra volta no Bellotta non mi devi avvertire ma che delusione l'ha giocato a fondo Bellotta mi avevo dimenticato dovrei saperlo magari anche dicevo ma l'ha giocato per Megadrive proprio no va bene regicuito regicuito perché Bellotta mi ha sulclassato ancora una volta vediamo se questo spegnere accendere cambia tutto glicettino 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 poi si stabilizza bene vabbè bella merda sei deluso deluso vediamo se funziona adesso che tutto è più bello se funziona last battle battle anzi proviamo shin no kuto no ken de mortaci tua lui okuto no ken shin seki mazzo vediamo cosa ci dice Danilo della frana non sto consultando i fantastici appunti di Danilo della frana vediamo di okuto no ken il buon vecchio Danilo della frana ovvero di okuto no ken shin seki ura kiyoshi a riushi den tetsu no dono no ci dice per me un cult un cult io lo finisco una volta all'anno solo non mostrate i labirinti sono il male ma secondo te già molto si arriva a quello alto dai Danilo siamo seri adesso va tutto no questo comunque non va questo comunque non va perché devo stare male dopo aver flashato prova a resettare uuuuh Danilo Danilo il supereroe Danilo sa tutto sa anche che era la fine del ventesimo secolo e il mondo era sconvolto dalle esplosioni nucleari per esempio io in quel momento stavo a follonica con le palle a mollo in una tazzina di soia stavano diventando marroni ma io le volevo blu volevo le palle blu quindi la razza umana era sopravvissuta il punto forte della storia ma soprattutto il punto forte giocato in giapponese senza Arzark e senza la tristezza degli omini che volano affanculo no noi vogliamo fare esplotere gli omini sbagliando subito tasti come stappare le bottiglie di champagne poi dicono che i videogiochi fanno bene i videogiochi sono il deboscio ti rendono delle persone brutte che fanno esplodere la testa alla gente qualche volta anche il corpo tipo in questo caso come era quella questione del power cioè come funziona il fatto di maglietta bagnata che si spacca non me la ricordo più non ci gioco dai buoni tempi dell'amiga non è vero ci ho giocato ovviamente subito appena uscito emulato su megadrive perché comunque era più sfiziosello ciao Bart ti sei fatto proprio un bel ragazzone sei gender fluid abbastanza ottimo mi piace ma come è possibile che i videogiochi che in shero siano tutti talmente brutti ma c'è da dire come è possibile che la maggior parte dei videogiochi che esistono siano brutti avete mai pensato questo fatto tutto sommato bizzarro cioè la maggior parte dei videogiochi che esistono sono brutti siete d'accordo con questa affermazione o è una affermazione un po' esagerata che la maggior parte dei videogiochi che esistono sono brutti questo è veramente demenziale ma che è quando è che mi si toglie la maglietta danno cioè ormai dopo Achille Lauro tutti vogliono togliersi tutto pensate che è figo qualcuno ha già fatto un character design di Kenshiro tipo Achille Lauro secondo me sarebbe perfetto anche se è più effettivamente Jojo come roba la roba Achille Lauro come si è vestito ieri cioè ha una faccia proprio da personaggio di Jojo Rabbid oh eccola qua Rin 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 ti sei fatta donna ma io mi sono fatto Bart ah 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 va bene ah giustamente ci ricordano che la maggior parte di tutto è brutto oh cazzo questo non lo so fare però con quella musica assurda tipo tristezza quando invece dovresti essere tutto felice che palle ragazzi muore così game over vabbè veramente fa cagare comunque possiamo dire che è un brutto gioco di una brutta serie veramente pessimo grazie 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 mmm glicettini ok è come se stesse spurgando la ram perché si vedeva ancora la grafica del gioco affascinante vediamo un altro consiglio del buon 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 un gioco per master system molto interessante grazie 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 di niente tutto sommato ma lo proveremo lo stesso sms vediamo un po' che abbiamo qua ci abbiamo mmm tensaibakobong no ma io volevo virtual fight animation non l'ho messo si che l'ho messo sans sans virtual fight the animation uno di quei casi in cui c'è una circolarità per cui si va dal gioco all'anime e dall'anime al gioco e si va anche al master system è una roba è una roba no è una roba dai poi te lo finisco live non è vero Danilo non vieni mai a giocare con noi non vuoi mai venire l'unica cosa che è venuto in streaming era perché c'era l'amo l'amo della sala giochi di vernillo e allora hai detto vengo virtual fight virtual fighter già tre diversi loghi per virtual fighter animation togliamo per piacere quel brutto boxettino ora vai chissà cos'è virtual fighter animation che voleva tanto farmi giocare il buon vecchio Il buon vecchio Esatto Molti ci chiedono cosa ci fa Virtua Fighter Su Master System Me lo sto chiedendo anch'io E adesso me lo sto chiedendo un po' di più Grazie Ma Cristo Esattamente Cosa mi stai facendo giocare Danilo Cioè in realtà è sfizioso Sembra State Fighter americano per Commodore 64 State Fighter 1 Quello con gli sprite piccoli Solo con delle belle animazioni In effetti ti odierò subito Ma quello che A parte che non so giocare ovviamente Virtua Fighter Quindi la vita è un po' di merda Ma In realtà Ma è un gioco del Game Gear Dimmela tutta Dimmela tutta Danilo Questo è un gioco del Game Gear Convertito su Master System In Brasile o roba del genere Dai Non è possibile Ho vinto Ti mola Ho vinto per Per esaustione Allora devo dire che La giocabilità è molto simile A Virtua Fighter 3D Infatti non riesco a giocare A un cazzo Ah bravissima per Game Gear L'ho capito facilmente Dan no? Per i meno avvezzi Ho capito che questa è una conversione Più o meno ufficiale Di un gioco del Game Gear Dalla Barre sotto Che occupano uno spazio Compatibile con lo schermo del Game Gear E non tutto lo spazio Come ci si aspetterebbe Da un gioco del Master System Sto proprio a mitellare Però veramente è una roba tipo Disgustosa Beh basta Ciao Molto veglio Della versione Mega Drive Dico La versione Mega Drive è una roba Però è altrettanto giocabile Allora questo ha un suo taste Così ha un suo taste Un taste un po' acquired Però è pur sempre un taste Qualcosa di colorato Qualcosa di gioioso Chiedo Che Isatsu Path Labor Sarà sicuramente uno strategico del merda Davvero? Vediamo cosa mi è scritto Chiedo che Isatsu Path Labor Ingiocabile Mannaggia Eh grazie Grazie Danilo Vediamo qualcosa che invece qui Qualcosa di eccitante Qualcosa che Che possa eccitarmi Tra i tuoi consigli Ah Ah Harry Manada Picchiadolo bizzarro A base di sumo Un po' troppo story driven Per essere Vabbè no Allora Io andrò sulla mia cartella segreta Inspired La mia cartella segreta Sono giochi che in qualche modo Hanno qualcosa di Anime nell'estetica Una cosa importante Da avere sempre sotto mano E Metteremo Battle Girlfriend Un gioco che non ho mai giocato Ma che mi ha sempre affascinato Quindi volevo vedere così Una storia fantascientifica In cui uno scienziato pazzo Vuole conquistare il mondo E per qualche ragione Per fare questo Rapisce due golfisti Questa la puoi considerare un po' la cartella Mystery Borra Francesca Zambagno Una cartella piena di sorprese Di testi in giapponese Incomprensibili Lei Ha 16 anni Quindi per piacere Fate i bravi Mentre lei Ha 17 anni Quindi per piacere Invece fate i bravi A meno che Non siate minorenni In quel caso Si può parlare di Come dire Una naturale pulsione Per qualcuno Della stessa età È abbastanza legittimo Ma Qualcuno Non vuole Che la loro carriera Di golfiste Venga Vada avanti Come dovrebbe Veramente Mai giocato Battlemania Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ed ecco qua Il cattivo Che sembra stranamente Un nano di Golden Axe Che è pronto A sferrare il suo attacco Contro tutto Lei viene controllata Viene mind control Che è sempre un'occasione Per quel figlio Di fanservice Ma comunque Ancora nel limite Del buon gusto E strilla Strilla La poverina Mentre lui cerca Di mind controllarla D'altranto Lui ha una molletta Che gli tiene Un nastro per i capelli Sul naso Però la sua potenza Psichica è tale Che non riesce Veramente a controllarla Sto inventando ovviamente Ma mi sembra Che questo è un mato Ci ho azzecato E arriva Il cazzo è questo E il professore Della fortezza Dei Goldrake Però lui La salva Lei comunque Oh Mi eroe Va bene Esatto Usa Breathright Quella cosa Per respirare Daniele ovviamente Dice Combatte il mania Cerca di fare L'easter egg Dove il super Famicom viene Calpestato Mi raccomando Vediamo se L'ha scritto anche qua Bizzarro easter egg Dove una dei due Protagonisti Calpest È incazzato Un super fan Vabbè Sei fissato Con questa cosa Ma non posso farlo Se non so dove è Capito Quindi Lei Non è più Mind controlled È libera Ha un bellissimo Stile grafico Se non è anime Questo Anche se non è ispirato Un anime Ma è Autotono Del Mega Drive Ed è un gioco Pensate un po' Eh Eh Di Golf E lo giocheremo Come golf Perché 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 Sì Perché Va bene Io giocherò Contro di Ah Un bel gioco Di golf Capita sta storia Così Ed è un gioco Di golf Non è fantastica Stato Vai Sì Sì Vai Sì Dio Ma che palle Per tirare Eh Non è anche un gioco Di golf Un po' Merdo Tra l'altro Dentro un campo Da baseball È una roba Vabbè Intanto tocca all'altro Che con molto E pieno in chalance Fa un tiro perfetto E finisce anche lui In la sabbia Bene Bonco Bene Io adesso dovrei usare Un sanduaggio Probabilmente E lo user Per togli un'idea La sabbia Come si compete Va bene Vai Milero al centro Perfetti Tiri perfetti Guardate qua Che roba Un grande pene D'erba E finisce Il ruolo In bunker Bene Anche lui Prende sand wedge Ed esce Molto meglio Di me In effetti On the dream Guardi Si direi che è on the green E tira lui Perché non si sa Perché tira lui Ma con coglione Fini nel rough E tocca Fermi A me Grazie Grazie Quindi 652 yard Tutto bene Va bene Club Chiaramente Questa qua Benissimo Grazie Che mi hai già messa Non so dove sto mirando Ma penso Giusto Guardate che tiro Perfetto Che va a finire Esattamente Urcanoid In mona Vabbè Comunque Sono bizzardo Perché altro L'introduzione La buffa Sei troppo colto Dan Lo scoperto Inizialmente Sfogliando Un giapponesissimo Numero Di beep Megadrive In realtà Basterebbe Vabbè C'è io Anche Beep Megadrive Dan Ma quando ho tempo Di sfogliare Il beep In beep Megadrive Lo sai Che li abbiamo pagati A quel brav'uomo Del Non si dice No A lui Così Secondo me Giusto Resquittare Resquittare Now Molto bene Vediamo un po' Che cos'altro c'è Allora C'erebbe Alex Kidd Sapevate che Alex Kidd Inizialmente Doveva essere Uno spin off Di Dragon Ball Ma Epoch Prima e Bandai Dopo Si accaparrano I diritti Alex Kidd Doveva essere Uno spin off Di Dragon Ball Eh eh Lo sapevate Eh eh Io no Me lo ha detto Danilo Della Frana Che ci segue In chat Quindi grazie Per questo bellissimo Regi Quittino Sono un po' Un po' avvilito Mi verrebbe quasi voglia Di giocare a Magical Per fare il solito discorso Lo facciamo? Dai facciamolo Facciamolo Magical Hut No Kutobi Dopo giocheremo Uno dei titoli Di lancio Del Mega Drive Che è ispirato Un anime Che non conosciamo Noi E forse neanche voi Si potrebbe fare Una serata Solo di giochi Di golf Bizzarro Assolutamente Yachi Sarebbe molto Molto bella Ma vorrei farla Con Danilo Della Frana Che infatti Non verrà mai Quindi non la faremo mai Almeno su Skype Come voce Come voce anale Scusa Come voce Che aleggia Come si dice Abbonamento Per Dragon Ball Ender Grazie Così si dice Oh eccoci qua Tutto bene Vedi Hai capito? Io sono un manga Molto famoso In Giappone Guarda che roba Che c'ho Eh? E di Gioichi Katakura Proprio lui Studio Pierrot Mica Pizza Buccacche Studio Pierrot E guardate Che delizia Che delizia Premo subito Un tasto sbagliato Quanti giochi Che se avessero avuto Il gameplay Wow Se avessero avuto Il gameplay Di Allora Quando si è accucciato Non puoi effettivamente Fare niente Però puoi tirare un uovo Che è sempre bello Ok L'amico uovo Beh questo è crocantino Facciamo la prova Del croccante Se salto Cosa fa? Se salto Non va in su Come Doraima Se salto Fai bravo Certo Sgomma Che ciao Quanto c'è Cuccio è bellissimo Guardate la faccia Di questo demente Ciao Ciao Don Kale Stiamo giocando Un po' così Alla cazzo Decare col Mega Drive Giochi anime C'è stata una prima ora Molto dura Per tutti Ma soprattutto per me Che non ho voluto Riavviare Perché non avevo Fiducia nei miei mezzi Ho perso il mio amico Continuo a schiacciare Questo tasto Perché devo avere Uno shop portatile Che senso ha? Perché non posso Sparare da cucciato? Perché? Io voglio avere Risposte a questi dilemmi Siamo sui simili bonks Ma anche un po' bonkers Proprio nel senso di Ed Enx Basta schiacciare questo tasto Questa postura del Menga Del Menga Drive Il Menga Drive Però puoi conficcare i nemici Nella terra Bella questa cosa Mi piace Un po' Wonder Boy Ma un po' no Roba che cade Qua mi tornerà il mio cappello Inizio mi do un soldo di caccio E mi butto giù Perché sentivo la presenza interessante Di quella cosa qua sotto Tante cose da scoprire Una musica amena e giapponese E finalmente il cappellino Torna con me Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo E adesso il cappellino Che è un uomo In realtà Ma perché dice cappellino? E mo vedrete Perché dico cappellino E mo lo capirite Ah Ah Ta Ta Soka Soka Salta di più Un po' Non posso saltare di più E allora andiamo di qua Pam Sembrano un po' i Sembrano un po' i A che bisogno Bislacco setup sto usando Come ti permetti Bislacco setup Sto usando un setup di tutto rispetto Cioè La verità è che non so cosa intendi per setup Forse è questo che intendi per bislacco setup Ma non sono sicuro Neanche di cosa sia un setup Sto facendo andare cose Ed è un miracolo che vadano Anzi in realtà poi neanche non andavano più di tanto Dal cappello resterà perché mi sono toccato E invece torna Allora devo dire che è un gioco con un ritmo Stupido e irritante Ma con una grafica molto gradevole Ma 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 C'è anche dello Psycho Fox Potrebbe essere degli stessi Adesso giustamente dobbiamo vedere Fare il confronto perché se no Non si fanno queste cose Se non si fanno queste cose poi non si fanno Capite cosa voglio dire Cioè bisogna farle perché vengano effettivamente fatte Se no poi non si fanno Intanto vediamo Esatto Exastarle si sta presentando come Milord Ma io mi ricordo le puntate in cui anche nel pregiato studio 2 Le cose non andavano come sarebbero dovute andare E' facile sparare su quest'uomo che è rimasto orfano E del suo primato su Wonder Boy in the Monster Land Bellotto non ti metti anche tu a giocare a Wonder Boy in Monster Land Così tutti giocheranno in pochi mesi meglio di quanto io abbia mai giocato a Wonder Boy in Monster Land Non avevano i diritti per fare il gioco del manga E soprattutto non gli fregava niente Era molto più figo fare un gioco spaventoso E così lo fecero Guardate lo stesso gioco Lo stesso Cristo di gioco In un respinto totale Con la paura Vedete che il piccolo vetto di prima Diventa la sua testa stessa Financo Dalto un cappello Con la sua testa Rivoltello Come può Stessi problemi E' quasi meglio C'è qualcuno di più croccante Che non mi sa spiegare Forse è da un po' aiutarci Perché è inspiegabile Niente più croccante Questo gioco Rispetto all'altro Questa è un po' giocare di merda Però nessuno E' croccante No non è un gioco di merda E' un bel gioco Se diciamoci a me Non so fare per forza Quelli tipo angry video Che è merda Perché non è il format A cui io ambisco Come vorrei aver dato Quest'impressione Io non voglio essere In nessun modo Cioè ci sono già C'è il doctor game C'è già chi fa La versione italiana Anche in maniera Più che ragionevole Dell'angry videogame Io cosa voglio fare Io voglio solamente Non so cosa voglio fare Non lo so Voglio giocare ai videogiochi Stavo cominciando oggi Questo pomeriggio Crono Trigger Su 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 DS Che non ho mai giocato E poi Poi Mi Ho preso una tristezza Ho pensato che non avrei Il tempo di giocarci Basta Chiudiamo anche questo Basta Uno spleen Uno spleen Uno spleen Esistenziale Perché comunque mi domando Perché gioco Perché giochiamo Cosa stiamo facendo Chi siamo Perché stiamo giocando questi giochi Perché stiamo giocando sempre Solo Wonderboy di Monsterland Per esempio Cosa che faremo molto presto Ma non ancora Non ancora Andiamo a giocare Per qualcosa di bello Per esempio I Burning Force Sono Burning Force no Questi li ha consigliati Dan Ma io dico no Potremmo giocare a Battle Mania Oppure a Battle Mania Dai Che è quello più bello Sono Quale è più bello? Sono uno Mazin Saga Ma certo Vediamo un po' Vediamo un po' Exlanza Vero Mazin Saga Vedete che la Selecta è bella Poi vado a giocare Giochi di merda La Selecta Perché sono strano Perché sono strano Ah una cosa interessante Che dice Don Kale Che per nessun motivo Decap Attack Usa un differente Level design Ma Chi sa perché Qui è tutto giusto Qua veramente Abbiamo a che fare Con Una specie di Surrogato Delle Dirty Pair Però diverse Battle Mania Musiche giuste Musiche giuste Musiche giuste Sprite Giustissimi E anche lui È giustissimo Chissà che cazzo Si sono ispirati Un incrocio Un uomo tigre Mister X Golgo 13 Quel tipo di personaggio Lì E lei ci sta Lei ha degli occhi Molto belli Lei ha degli occhi Molto belli Il prototipo di Akira Fu uscito recentemente Sì Lui L'abbiamo giocato prima Veramente agghiacciante Questo invece è un gioco Della Madonna Lui e l'altro Tutte e due Che figo Tutto Come c'è questa Vibe city pop Inspiegabile Per l'epoca Bella Vai Che figo Dai giochiamo anche Un gioco figo Ogni tanto No Sample Gracchianti Come piacciono a noi Allora Cosa posso fare Posso Caricare Non ho capito Cosa vuol dire Non si carica Posso girare lei Con questo tasto Pigliarmi Un'assassata in faccia Un'altra Va bene Pinguini elettronici Spazi ristretti Metropolitani Di Tokyo Bella Che ambientazione Divina Cioè Io vi domando Se forse Konami Avrebbe dovuto fare Un po' di giochi In più così Nel senso Se penso a quel famoso livello Di Parodius Di Oshaberi Parodius Che abbiamo giocato L'altro giorno No no Così Sono solamente estetici Questi Spida Musica violentissima Palle Palle volanti Cannoni Diciamo che Secondo me Se ho fatto un po' di giochi In più così Cioè Non per forza Di cose demenziali E muoio E cadono Cioè Dei game over Senza pietà Francesco 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 Un'ora di sonno All'attivo Nell'ultimo 48 ore Entro e esco Dal coma Continuamente Ti capisco Anch'io Ho dormito pochissimo E sono in condizioni Psicofisiche Meno che discutibili La Battlemania Mi gusta molto Vediamo come fa Fabio Vediamo le opzioni Allora Difficulti Subito easy Pad Va bene Sound Ok Torna qua Questa volta Per la mia macchina Sceglierò Quest'arma qua Vai Proprio lei Sì Lei Vai Ok Però la macchina Così La lasciano là E se ne vanno Bello Non devi neanche Premere Basta che tieni premuto E parte un getto Di potenza disumana In una o due direzioni Bello Questa gestione Della cosa Ci verrebbero più Shooter Ambientati nei bassi fondi Di Tokyo O di dovunque sia Decisamente Sì Più pinguini Siamo d'accordo Konami Ci ha dato Tanti pinguini Assolutamente Eccellenti Però Stai Direi di sì Wow Ficco Ah perché Ho capito Devi caricarti Quando ti sei caricato Sparando la gente Ottieni il tube Molto meglio Ho giocato easy Sarò strano Ma ho giocato easy È molto meglio Esatto Se schiacci Quando non hai la charge Perdi tutta la charge Questo è un gioco Che dovrebbe giocare Fabio nel buongiornissimo Sarà proprio un gioco Perfetto In questo senso Quella lì Rilassando Di Shooter In cui non devi sparare La raffica Ma puoi usare L'autofire automatico Pensato direttamente Dai programmatori È sempre gradevole Potevo anche usare Una mega weapon Ma non l'ho fatto Bene la weapon Quegli occhiettini Aia E Vabbè Capite quando può essere Giusta la roba Ciao Che fa Manda baci È finito di mandare baci Possiamo combattere Weapon Eh Non ti aspettavi Come non è vero Sei te Così sì Lo conosco Neanche L'alba troppo chiara Tu Sei già troppo Viviano E io continuo A parlare di te E chissà pure perché Weapon Paff Vabbè Forse è easy Un po' troppo easy E Pure che In Svizzera Ci feci una lunga sezione O sbaglio Combo Ragazzi Non è possibile Che lo Svizzera Abbiamo gli stessi Identici gusti Proprio identici Siamo ragazzi Di buon gusto Ma soprattutto Avete gli stessi gusti Di Danilo Avete giocato Non che sia un male Di giocare la roba Ma il problema è Secondo me Una cosa nel format Di KinoBisball Che noi dobbiamo capire Sempre di più è Quanto e come Gestire Il giocare La roba Media An passant Cioè Un gioco così O decidi che Vuoi giocarlo tutto E ti metti La te lo giochi tutto Di fare la serata Ma sapete che io Non sono tanto Per questo tipo di cose Non so neanche perché Perché a me piace Giocare i giochi Da inizio alla fine Però c'è anche Il fascino del Ok Il 2 Non è mai stato giocato XA Starless dice Abbiamo giocato questo Davvero Beh mi conforta Sono sicuro Che il grafico Sia lo stesso Del gioco Che abbiamo giocato Su Famicom L'altro giorno Con la maghetta Di Megaman Perché Il caratter design Delle tipe Senza sopracciglia Senza ciglia Cioè con le ciglia Poco Poco Accentuate Cioè non so spiegare Non è che non hanno le ciglia Però vedete che hanno Una E qua Comunque Mi prendo questa Vai Benissimo Sì Vai E qua andrà in verticale Giusto? Esatto Ma ricordo Adesso guardremo In seguito Anche perché Questo dithering Un po' eccessivo Mi dà fastidio Mi sta infastidendo E sento che non posso Andare avanti ancora a lungo Con questo dithering Cioè Un'offesa Il mio buon gusto Questo dithering O no Sì Qua c'è un grosso problema Secondo me Qua hanno cannato Completamente Lo stile grafico Di sta roba Cioè il primo Di vero era bellissimo Questo no Io Rage quitto Per stile grafico Voglio il diritto Di rage quittare Per una questione Di stile grafico Anzi Di caduta Di stile grafico Nel corso d'opera Che è stato Questo caso Bene Quindi è il momento Del Entrambi i giochi Dice Don Cale Si counterstopano Che è un amore Soprattutto se sei bravo A giocare Cosa che io In effetti sono solo Quando sono pigro Pigro ad imparare i giochi Pigro Infatti quanti giochi so fare? Wonder Woman Monsterland Goals and Ghost E poco più Quindi Però si io Sto vivendo un po' Questa Mi domando Cioè Sto fatto di Finire i giochi Fare delle run inter Su un gioco Si No Quando Quando mollare Quando mollare Quando mogli un gioco Quando Tu magari sei stufo Magari pensi Che magari voi Che siete poi Al fine I fruitori finali Dello stream Quindi è giusto Che stiate bene Guardando lo stream Quando vi rompete i coloni del gioco Dopo 5 minuti 10 minuti Certo Dipende dal gioco Ma avere una sensibilità Che permette di Individuare Quando è il momento giusto Di mollare un gioco Non è semplice Ogni tanto faccio molta difficoltà Lo ammetto Esatto Scriviamo un saggio Su quando mollare I giochi Beh ma Don Cale Ma tu sei un giocatore Di livello Lo sappiamo Quindi Direi che Quel A e X Nel tuo nome Lo rivela Victor Cale Del 1978 E allora Parliamo Dello stile Sento già profumo Di goduria Epilessia Esatto 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 Guardato Guardato Di sfuggita Perché Come se era in ufficio Però tipo Quello di Ken Se ci fosse la traduzione Magari c'è la traduzione È una ficata Cioè Il gioco per PSX di Ken È interessante È un gioco che ha Di panarsi Uno story mode Quindi Merita Indagare Ti puoi prendere Sword of Vermillion No magari Però Alicia Dragoon E giocarmelo tutto Questo lo puoi fare Secondo me Quando streami Tutto il giorno Allora dici Veramente Vedo come mi prendo Mi prendo bene E vado avanti Se non No Buonasera Rayel Tanto simpatia Facce d'anime Proprio totali Battute Cose Facce Gocce Sbuffetti Tutto questo Per dire Che devo ancora Scegliere La mia astronave Ce l'ho questa Bene Che non è un'astronave Ma un missiletto Che si attacca A tutta la schiena Così Ciao Charging Ovviamente Pesci Weapon Un po' sprecata Ma va bene Come faccio a girarmi Non mi posso girare State scherzando Non posso girarmi No Si può girare No No Apparentemente Non ci si può girare Non mi ha senso Scusa Dai Come ci si gira Ditemi come ci si gira Scusa Ma ci si può girare Ditemi che ci si può girare Dall'altra parte Mi sono messo La pizza negli occhi Credo Perché Uh Pizza negli occhi No good Vabbè Non lo sapete Non lo sapete No Non c'entra Non come prova a spegnere Riaccendere No Il problema è solo Se posso girarmi o no Ma il pulsante Non funziona Non so perché Mi pareva proprio Che ci si poteva girare Aveva molto più senso Sbaglio Non puoi Grazie Mi confermano Che per ora Non posso Grazie Quindi solamente Su cari 2 Musica qui Molto più totale Molto musica totale Mamma mia Sbavella Un altro Arriva Sbavella 2 Sbavella 3 E allora Sbavami questo Avrei potuto ottenerlo Per questo Effettivamente Ma vabbè Pazienza Quella luna Severa maestra Guardate Skyline Le cime dei palazzi Ciao Ah la mia Oh Wow Il mio riflesso Solo per il gusto Di farlo Ma lo hanno fatto Il mio riflesso È diventato Il mio nemico E io ti dico Uè E ciao E si va avanti Così Because Reasons Il mio riflesso È diventato Il mio nemico Mi piace Mi piace Tutto giusto Vabbè La sensazione Possa Possa Che Ma Quella skyline Quella voglia Di mode 7 Anche se non ce l'ho Tutto giusto Però Anche tipo Quasi morto Quindi Un po' di Attenzione S'il vous plait Sembrava una pillolina Da raccogliere Non lo era È arrivato Baluba Loke E mi ha ucciso Vabbè C'è l'audio del gioco Che ha un effetto strano Tipo radio AM Vabbè Non poteva andare tutto bene Fino alla fine Ma siamo quasi alla fine Questa notizia è molto bella Perché io crollerò Addormentato qui sotto Però Non vorrei Che mi fraintendeste In realtà È molto spassoso Rage quit C'era l'orologio che mi diceva È l'ora del rage quit È tutto spassoso E' molto rilassante Nel senso che Dire minchiate E possibilmente Strappare un sorriso Oppure Cristo Non funziona mai È un cazzo È rilassante Alla fine Pensate che Il giornato avuto Se tutto questo Mi sembra rilassante Ma non è vero Perché sei tu Con i tuoi giochini Con gli amici È quel fatto lì È quel fatto lì Cioè Cazzeggiare con gli amici Perché no Perché non farlo In età adulta Allora Io volevo Se non mi secca Visto che è l'ora Delle cose zozze Non ho trovato cose zozze Degne di questa zozzosità Molto bello Dana Questo è un altro gioco Non si aveva mai giocato Ma Dana È molto molto bellino Da giocare tutto Ha quel Ciao Gianluca Ha quel feeling Dana Da Rastan Però Totalmente no Ma io volevo giocare A Megapanel Megapanel È un gioco che scoprì Tipo che non gioco Veramente da 23 anni Non gioco da 23 anni Megapanel Della Namco Che exercise Spin up Pin up Senza dubbio Se c'è un options Spoglia subito No Diciamo che è già tutto giusto Pin up Oh Vai con le pin up Non so come si gioca Cioè non mi ricordo Perché ci ho giocato L'ultima volta Esattamente 23 anni fa Quindi guardiamo un po' Penso che sia tipo Il gioco dei 15 Sì Tipo il gioco dei 15 Benissimo Aspetta però Urca Il gioco dei 15 Cazzuto però Molto cazzuto Ho già sbagliato tutto Cosa posso fare? Un cazzo Bella Bella di padella Emo Però adesso escono altre cose Che posso mescolare La mia lucidità in questo momento È bassetta Quindi Farò un po' Cagare Però Che problema sarà mai? Ok All right No Non tanto bene Potrebbe essere meglio Ma qui posso comunque Andare qui E fare una cazzo Difficile questo gioco Altro che pin up Dana un po' Zozzo Lo è Sì beh Ecco Scusate Mi sto distraendo Pensando alla zozzeria E faccio un'altra cappella Di quelle belle Proprio Alla grande Con Corrado Fumagalli Non a caso In effetti In effetti Potrei anche sfruttare Di più il next Il next è buono Il next mi dice Cose utili Per la mia salute Ok Bella Bella di padella Zio Guarda cosa ti faccio qua Zac Un cazzo Qua però ti faccio questo E qua Uff E qua E qua E qua È tutta una pin up Tutta una pin up Ovviamente è pin up Di buon gusto Namco Scusate Eccoci 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 Peccato Megapanel E crocchè Mi fa piacere Luca mi fa La finestra Sulla cassa No state sentendo Effettivamente Il gioco Che però Questo audio Un po' Cipettuso Da Megadrive Ancora non sfruttato E la Supercombo Infatti la tizia dice Supercombo Puoi anche forzare Vedo L'avanzamento L'avanzamento Delle Mi chiamo Un audio Veramente di merda Però Cioè Mi sembri Ascoltare C'è il nuovo Filtrato Dal metallo Pressofuso C'è pirati Qualsiasi cosa Voglia dire C'è il nuovo Filtrato Dal metallo Ma che cazzo Mi domando Ma cosa ho in testa Cioè Che cosa ho in testa Ah qua Potrei fare così No Potrei fare così No Sì Così bella Bella di padella qui Poi vado qui Faccio questo Così Faccio Così Lui va qua E qua è tutta una festa Di colori Frullè Zac Tre qua Poi prendo questo Non posso muovermi più Ma posso prendere questo Vedete capire Il degrado mentale Di questo momento È round clear Guardate che pin up Delicata Piccola Così Immagine di una ragazzina Serena Senza Senza quelle brutture Che si vedono certe volte In certi giochi Che sono contrari Alle nostre religioni Alle nostre Sì Alle nostre consuetudini Sociali No Questa bruttura Di queste donne nude Che non ci piacciono Uomini nudi Di più Ma donne nude No Questo Non va bene Non va bene La nudità è peccato Il peccato è nudità Se ci pensate Non vuol dire un cazzo Però secondo me Vedere Achille Lauro Ha cambiato qualcosa Nella mia vita Ieri Cioè ieri Poi ho visto oggi Perché tu ti continuo a dire Come dicevo prima Achille Lauro Hai visto Achille Lauro Fai Achille Lauro Incredibile Quindi ho guardato Achille Lauro Su Youtube E devo dire che mi ha colpito molto Mi ha colpito molto E ha un po' ridefinito La mia norma del pudore Ed ecco perché sono qui A domandarmi Perché non c'è un gioco Più zozzo Per Mega Drive Con cui intrattenermi E intrattenervi Però sto morendo Perché lì c'è un enorme Sfilza di roba Che sta per cadare Su di me Portandomi alla morte E noi non vogliamo questo Quindi cerchiamo di assorbire Questa cosa Bene Ok Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua Questo va così Questo va così Però sono ancora un po' male lì Un po' male lì E' un po' peggio qui Ehm Sì Questo lo mettiamo così Vomitellus Sempre Questo così Esatto Tutto a caso Lavoro quello che volevo A caso Qui devo assolutamente Sbrogliare lì Un po' di bundle Bundle? The bundle Of the matassa You know the matassa? Ah fuck's sake Devo chiudere quello presto Perché se no so cazzi Come brazzi E noi non vogliamo i cazzi Come brazzi Giusto? Che pessima quella linea Infatti il tipo mi dice Oh guarda che stai facendo La linea gigantesca Stronzo E ho perso Propriamente Una pin up Baciava Un gatto Simpatico Vuole dirci qualcosa Non so Mi sento diverso Dotto canto A questo punto da vita Provare qualcosa di nuovo Va bene Insomma A parte questi discorsi Che potrebbero essere Fraintesi Poi mi arrivano Dick Peek E non è quello Che vorrei Grazie Non sono interessato Non sono interessato Perché sono un uomo Felicemente accasato Allora Qui andiamo così Andiamo così Qui andiamo così Potrei darmene 4 Però avrei dovuto aspettare Creare una nuova Cosa Intanto è incredibile Ma qualcuno Ha cominciato a seguire Il canale Su questo gioco Mi fa sempre L'impressione Come se In momenti di frustrazione In cui la gente dice Minchia che pallina Che sta giocando Per distogliarmi Qualcuno Si mette a seguire Il canale Quindi è bellissima Sta cosa Devo giocare Più spesso Cose che distoglono Qui Facile Easy busy Easy busy Easy veneto Easy busy Risi e busy Pensate una volta Quando ero giovane Ma forse l'ho già raccontato In stream Perché ormai comincerò Anche a ripetermi Cristo C'era questo strano detto Tra ragazzini a Trieste Che era Risi busy E pangratà Mone cazzo Si è inculato Che in effetti È molto strano Perché non vuol dire Veramente niente Un limerick Molto raffinato Però altrimenti Guarda là Il limerick Come sta Ciavando Con quella Incredibile Sfilza De merda Che ho creato Comunque Easy busy Pangratà Mone cazzo Si è inculato Quindi Va bene All right E a un certo punto Una volta La maestra A scuola Parlava Del fatto Che una volta Si mangiava Un sacco Usava Mangiare Risi busy Che era Un cibo Così Dei poveri E E io appunto Disse in classe Risi busy E pangratà Lasciando così Che gli altri Capissero Perché tutti Sapevano Era il meme Del momento Quindi Comincio a capire Come si gioca Attenzione E' importante Lanciare le bombe Nel buco giusto Come al solito Non sto giocando Proprio benissimo Ma Insomma Con un po' Di fortuna Vedi Vedi Che siccome Ho colpito Quella colonna Lì Effettivamente La bomba È caduta Tutta a destra Quindi Risi busy E pangratà Ma una cazzo Sega in culà E la maestra Che probabilmente Sapeva Aveva sentito Perché aveva un figlio Che lei Del più o meno Il mio coetaneo Forse Le era capitato Di sentire Anche a lei Questa brutta 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 Anche filastrocca Sta così Sta roba Risi busy E pangratà E mi mandò fuori Della porta E io dissi Ma non ho detto niente Secondo se è anche Uno stronzo Anche fa Ma non ho detto niente Signora maestra Ma perché mi fa questo E mi ha guardato Con la faccia Come dire La vaffa Devo anche perdere tempo Queste stronzate Non sai quanti temi Devo correggere Io per domani mattina Ecco Quel tipo di cose lì Quindi la maestra Mi buttò fuori Però Poi mi disse Che ero bravo Cioè nel senso Siamo rimasti Tipo amici In un certo senso Anche con il figlio Un'ottima persona Un'ottima persona Che pensate Anni fa Voleva regalarmi La sua collezione Di cassette Dello spettro Ma io gli dissi no Perché ero contro I beni materiali Che stronzo Cioè nel senso Benissimo Il concetto è giusto Ma Tanto poi alla fine Gli ha regalati A un altro mio amico E io ho rosicato malissimo Perché Perché sto mio amico C'era tutte le cassettine Della psion Tipo Pssst Quella roba bella lì E di colpo Ce l'aveva Lui e non ce l'avevo io E allora ho detto No Allora è sbagliata Questa qua Facciamo scendere Quella roba Che se no Ci sta creando Una roba al centro Che non mi piace Mica tanto Mettiamola giù Stavo al centro Ah Sugoi Sugoi Desne Ti sono piaciuto Tac Ok Una musica Che secondo me È tipo Chopin Se solamente capissi Quanto manca Cosa manca Quella colonna lì Stai sì Niente Ecco che cosa ho trovato Su web E' apparso un nuovo Tipo di Di cosa Che non so se È più figa delle altre No Esattamente uguale Allora No buono No buono Uematsu Questo va qua così Ok Questo Lo mettiamo Così Non so se c'è ancora qualcuno Probabilmente no Ma ha senso In effetti È anche strano Il gioco dei 15 Mi manda sempre un po' Il cervello in pappa Per quel modo invertito Che ha di muovere Le tessere Non so se capite Cosa intendo Forse sì Forse no Prima o poi Lo scoprirò Bene Li abbiamo pulito Ma devo pulire lì Non riesco a pulire Quel buco là Che ha detto così Come al solito È buco buco Però dal tuo canto Ok Allora Adesso questo va qua Questo va qua Buono Questo va qua 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 Ok buono Altra bomba Ma le devo colpire Quello più in centro Mannaggia Che fatica Non è mai stato Tanto difficile Spogliare una ragazza Adesso non si spoglia Lo ricordiamo Un gioco Namco Super safe For femmine A parte questo Birichino Inuendo Birichino Inuendo Cosa mi hai fatto Super Nintendo Con il tuo Inuendo Facciamo calare Quella colonna Infame Letteralmente Mettiamo questi qua Avete mai detto Che mi potevo inscimmiare A me con i giochi Con i puzzle Ho un rapporto Sessuale Così nel senso Proprio che mi Mi inscimmio E posso giocare Tantissimo tempo Ok Ce l'ho fatta E' molto Rilassante Esattamente Molto rilassante E' così rilassante Che per guardare La chat Non ho visto Neanche La bellissima immagine Che mi ha regalato Nabucco In questo momento Quindi Sono uno strunz Volevo capire anche Come funziona Il discorso Dei pattern Ok In questo caso Mi tira 4 bombe Tutte nello stesso punto Perché ho fatto I 4 pezzi In Verticale Quindi se faccio così Mi tira 3 bombe No il cazzo Penso che ci siano Una serie di convenzioni Di Ginevra Dei puzzle Che non ho ancora capito Ok Ora mi tira 3 bombe No una Con 4 Se fai 4 Ti tira più roba Se fai Ciao Qualcuno ha cominciato A seguire il canale Senza Una ragione Ti ringrazio Ti ringrazio Ribadisco Che è curioso In questi momenti Di gioco Veramente Bislacco Ma cos'è un gioco Bislacco Un gioco che per me Bislacco Come questo Per un appassionato Di puzzle E tipo Scimmia Totale Cozzo Finalmente qualcuno Che gioca a Mega Panel Lo aspettavo da anni Capito Può essere Why not Why not Mi sto facendo Lì Dai Dai che muoro Ecco Facciamo cadere La musica E' veramente rivoltante Rivoltante Cazzata Cazzata Glossa Cazzata Dovrò pagarla Questa cazzata Direi No E mi dice Occhio che stai per perdere Lo so Ciccina Ah se lo so Has Se lo so Tac Ok Ok Qui Qui è abbastanza ok Mi sto incasinando Aiuto Ah la mente La mente Ah la mente Intanto Non vale niente Ma no Sto sbagliando Sto sbagliando Candeggio Perché lo so C'hai ragione Ma fammi morì Sono stupido io Si aspetta un attimo Adesso arrivo Ok Adesso però Il problema E' tutto dall'altra parte C'è una diventantissima Scenetta dietro Diversantissima Cinque Boom Sciacalaca Proprio Omega panel Posso dire che è una figata Voglio proprio dire Che ragazzi Ho riscoperto Un puzzle Proprio che mi rilassa Mi piace No Potevo fare un incrocio Demonia Così Vabbè Pazienza Non è come Money Idol Exchanger Che ti abboffa le ulie Dopo tre minuti No Questo E' solid Solid fun For all the family E altre cazzate in mani Che sto facendo Ma adesso Metto questo qua Questo qua Questo qua Questo là Questo non posso Questo va là Questo va in cura Vabbè Ok Così No niente Questo sta cominciando A esplodermi la testa E' inevitabile Tra l'altro Di una serata Per giochi Di giochi anime Quando questo Di anime Ha giusto così Quel retrogusto Lì No Insomma Anime Anime Dai E' No Stavolta però Me la piglio In quel posto Lo so Stai buono Lo so Ho sbagliato Non mi do Mi giro No Vabbè Vabbè Forse giusto Così Come abbiamo visto Questa divertente scena Con La Pin up Sono le 23 40 Mi dicono Che posso andare A dormire E tipo L'infermiera Che passa Dice Bene Lora Prende la medicina Il bicchier d'acqua E poi può andare A dormire Metta la dentiera Nel bicchier d'acqua Non lo beva Come al solito Soprattutto Con la dentiera Dentro Sono un po' stanchino E' vero Bellissimo E infatti 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 Tra l'altro Spegnendo e accendendo Il Mega Drive Impazzito completamente Toolbox Cheats Quante cose Quante cose da scoprire Tra l'altro Devo adesso appena capire Come far funzionare La mia cartuccia Che sicuramente Ha un problema Fat Uno stupido problema Fat Ma comunque bene Fino alla fine Un po' di sminchiamento Importante Ah Perché L'NT6C 443 Mai visto Ragazzi Buonanotte Buonanotte Mi ringrazio Anzi Spengo anche il Mega Drive No Signal No Future Non si è neanche accordo Che ho spento il Mega Drive No Signal Forza No Signal Wow E' convinto ancora Di essere connesso al Mega Drive Vabbè Non lo so Grazie Grazie mille ragazzi Grazie alla compagnia Un mercoledì diverso Un mercoledì Che mi ha insegnato una cosa Se lo stream Non corrisponde Ai settaggi Che hai messo Ricomincia Perché Non è colpa tua Grazie a voi Veramente per la compagnia Perché oggi Era proprio tipo Aiutare uomo stanco Con simpatia e chiacchiere Le abbiamo fatte Mi fa molto piacere Mi sento quasi Uno speaker radiofonico Ringraziamo tutti Per questa bella notte Chi si sta appena alzando Chi è andato a dormire Ma in ogni caso Una grande notte Su radio Che no Bispo E mi sento che Hai affitto Io in ogni caso E mi sento che